Il capitale umano Quando un film si rivela un grande successo, come si dice in gergo, di pubblico e di critica, una ragione c'è. Nel caso del capitale umano di Virzic ce ne sono diverse, ma in primo luogo la storia. Il film in pochi mesi ha vinto praticamente tutto, Nastri, David, Chuck D'Oro, ma soprattutto ha incassato oltre 5 milioni di euro ed è stato visto da quasi un milione di italiani. E in effetti il capitale umano è una dura parabola su uno dei mali del nostro tempo, l'avidità. Questa cosa accomuna per tante parti del mondo, come se fossimo un unico grande suburbio di una capitale finanziaria, laddove le persone sentono di dover adoperare anche i mezzi più spregiudicati per riuscire a salvare la pelle. In un paesino della Brianza, gli Ossola borghesi in ascesa abbramano di entrare nel circolo dei bernaschi finanziari rampanti, anche grazie al finanziamento dei figli. Le cose si complicano, un immigrato viene investito e ucciso. Non si arriva a un'assunzione di responsabilità. I ragazzi forse c'entrano, forse no. Dino Ossola, Bentivoglio, si indebita fino al collo per entrare nel fondo dei bernaschi e svoltare. Non andrà così. Il capitale umano racconta dunque il lato peggiore, ma vero, del nostro tempo. Conta su attori eccezionali e pluri premiati come Bentivoglio, Gifoni, Golino, Bruni, Tedeschi. E ci ricorda, per fortuna, che il vero capitale umano, quello su cui puntare, sono i figli. Una storia valida in Italia, ma non solo, come ci racconta lo scrittore americano, autore del libro da cui la sceneggiatura è tratta. E' una storia che purtroppo potrebbe essere vera nel Connecticut, come in Brianza, a Tokyo, come in Brasile. Ma l'antitoto c'è ed è dentro ognuno di noi. E allora, da un film assolutamente da riscoprire per chi ancora non l'ha vista, un'anticipazione. Il ragazzo invisibile, il nuovo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, che arriverà in sala a Natale scontrandosi con fantasy e cinepanettoni, con un racconto invece di crescita adatto a tutta la famiglia. Scopriamone in anteprima assoluta le immagini. Non il superpotere per avventure magiche e strane, ma per un'avventura più grande che abbiamo da affrontare, che è la nostra vita. Ci ha fatto sognare in tanti modi vincendo anche un premio Oscar, ha raccontato il viaggio umano e spirituale in tutte le sue varianti, dagli indimenticabili commilitoni di Mediterraneo, alle atmosfere futuristiche di Nirvana, senza mai rinunciare però a dire qualcosa sul nostro tempo. Una sfida che Gabriele Salvatores affronta anche oggi con il suo nuovo film, Il ragazzo invisibile, tratto da un fumetto di successo. La storia di cui vi mostriamo le prime esclusive immagini è quella di Michele, 13 anni. Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport, ma a lui in fondo non importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella. Il ragazzo però sembra intrappolato nella routine quotidiana, finché un giorno inaspettatamente non accade qualcosa di straordinario. Si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per cominciare. Io credo che tutti a quell'età lì, 13-14 anni, ci siamo a volte sentiti invisibili perché nessuno ci vedeva oppure avremmo voluto essere invisibili per scomparire. È uno di noi perché affronta quel momento difficile dell'adolescenza che è il passaggio all'età adulta, quando devi scegliere se rimanere un supereroe o diventare magnificamente una persona normale. È evidente che non si tratta dell'ennesimo film di supereroi, ma di una pellicola in cui Salvatore si affronta il tema della crescita e il mondo dei più piccoli, seppure con toni fantasiosi, uscendo coraggiosamente a Natale, tempo in genere di cinepanettoni e colossal. L'obiettivo è quello di offrire un film di qualità, ma davvero per tutta la famiglia. Sarebbe molto bello che andassero a vederlo genitori e figli insieme perché sicuramente entrambi verranno toccati da qualche pensiero o da qualche emozione e quindi poi confrontarli. E davvero è anche questa una delle funzioni del cinema. Allora, care amiche e cari amici, se volete questa sera alle 23.20 vi aspetto con Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV2000. Incontreremo Pierfrancesco Favino che ci racconterà la sua passione per il mestiere di attore. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG2000. Arrivederci! Grazie a tutti!